Buonasera a tutti ragazzi, oggi questa campagna è impressionante, abbiamo cominciato 6 campagne, infatti adesso ascolto sempre le risate del punto, il frattempo non ciò deve, questo è il campagne dove andare nella squina piccola, se ascoltevate sul campo, fa un po' di stesa della squina del campane, quindi a presto, la loro campaglia, oggi ascolto a tutti, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!